Rieccoci, buonasera a tutti voi, eccomi qua, non sono scappato, impegni lavorativi quindi poco tempo le solite cose da dire, quindi la previsione in atto col 52 su Firenze ieri sera, martedì 10 settembre, non c'è stato nessun risultato, è arrivato un 44 così sulla ruota gemella di Roma ma quello non c'entra, andiamo avanti col 52, allora sarà un terzo colpo di gioco per la condizione data su ruota fissa Firenze, ma coprire anche la ruota nazionale perché di solito e spesso può succedere che queste condizioni possano uscire anche sulla ruota nazionale, ruota nazionale da coprire quindi gli ambi secchi sono sempre questi, 52-42, 52-44, 52-47, 52-49 c'è stato un 42-55 su Firenze al primo colpo, mi aspettavo un 52, invece comunque avete visto che cinquantina, quasi spesso la portata con la quarantina, posizioni più forti per i 52 di Firenze e la quarta posizione e in parte la prima posizione, poi come è stato semplice per questa ambata andiamo a vedere un attimino con l'8++ se il 52 sta avendo delle latenze o negatività per la sortita vediamo un attimino Firenze il 52, cosa andiamo a vedere? Che comunque sia, nelle appena 300 estrazioni stiamo andando piuttosto bene, 23 presenze su 300 non è male poi il 52 era sortito, mi sembra, su Firenze, il 52 con l'ambata contata, i numeri da 51-55 sono perpetui e quindi ritornano di gran voce sulle ruote gemelle quindi, previsione che si porta avanti, 52, come vi ripeto questi sono gli abbinamenti terzo colpo domani sera e poi di nuovo ancora la condizione per il 90, Palermo-Roma ma non vi sto a dare la classifica del 90 perché tanto se questa è la condizione come uscirà il 90? Allora se in queste ultime estrazioni della settimana ovvero giovedì, venerdì e sabato non dovesse uscire questa condizione allora poi, per la condizione speciale 90, un passo indietro si stoppa e si parlerà di nuovo della classifica integrale del 90 le solite quattro ruote dove voi andrete a farvi delle vostre previsioni perché questo è un consiglio ma questa è una cosa che voi avete voluto e io ho sempre fatto qui nella classifica integrale del 90 a parer mio questo Palermo-Roma è ancora possibile quindi attivo su queste due ruote, il 90 su Roma è attesissimo non c'è stata ancora l'ottantina interessata col 90 quindi può succedere che il 90 possa cuzzare davvero con uno di questi la terzina non dimenticatela e poi se volete aggiungere il 9 ancora per integrare una quartina, 990, 88, 89 Roma e Palermo siete liberissimi di farlo quindi, in sospeso alla classifica del 90 perché in prioritaria, allora, ancora questa, per questa settimana se non dovesse uscire nulla, allora, ahimè si conclude qua ma questa ritengo ancora che sia ancora valida poi, in 52, terzo colpo per questa condizione domani sera tutto qui ci risentiamo ai prossimi aggiornamenti da Marcus è tutto e buona serata a tutti voi e buonanotte a domani